L.A. Regina non rivelerà i suoi sentimenti al principe Harry e a Meghan Markle riguardo al nome della piccola Lilibet in quanto è personale per lei, ha affermato un esperto reale. Il duca e la duchessa del Sussex hanno annunciato la nascita della figlia Lilibet Lily Diana Mountbatten Windsor all'inizio di questo mese. Hanno detto che il suo nome era un tributo alla nonna di Harry, la regina, il cui soprannome di famiglia era Lilibet. Buckingham Palace ha rapidamente rilasciato una dichiarazione per augurare buona fortuna a Harry e Meghan dopo il loro annuncio. Ma non hanno menzionato ciò che la regina pensava personalmente del nome. L'esperta reale Ingrid Seward ha affermato che sua maestà non si sarebbe staccata dalla tradizione reale di neutralità per rivelare i suoi sentimenti. Ha detto a Express.co.uk. Penso che la regina rimarrà impassibile sia sul comportamento dei Sussex che sul nome della loro bambina Lilibet. Qualunque cosa possa pensare in privato, non rivelerà i suoi sentimenti. È personale e sono certo che lo manterrà così qualunque cosa facciano. Harry e Meghan hanno respinto i rapporti precedenti secondo cui non avevano chiesto il permesso alla regina per il nome commovente. Un portavoce della coppia ha detto che durante una conversazione con la regina, Harry ha condiviso la speranza di nominare la figlia Lilibet in suo onore. Hanno aggiunto. Se non fosse stata di supporto, non avrebbero usato il nome. Poco dopo l'annuncio della nascita di Lilibet, l'account Twitter ufficiale della monarchia ha condiviso un'immagine del giorno del matrimonio di Harry e Meghan per celebrare l'arrivo. Punto. Menzionava anche che il bambino era l'undicesimo pronipote della regina. Una portavoce di Buckingham Palace ha anche dichiarato. La regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge sono felici della notizia. Alcuni commentatori reali hanno affermato che il nome avrebbe potuto essere un ramoscello d'ulivo per la famiglia reale dopo la loro intervista bomba con la conduttrice di chat show americana Oprah Winfrey a marzo.